Buonasera, benvenuti all'incontro con la CISL, come ogni lunedì Paolo Zani è qui con noi, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Allora, il tema della puntata, la consulta, questa decisione della consulta di bloccare, di bocciare il blocco delle pensioni previsto dalla riforma Fornero. La Fornero che viene sempre evocata in questa trasmissione, adesso c'è un motivo in più, cioè? Questa è la dimostrazione di come è stata fatta la legge Fornero. È stata fatta male, in fretta e pian piano la stanno smontando, questo è il concetto. Cioè, cosa è successo? Che nella legge Fornero, per far cassa, e questo l'ho ripetuto per anni qua dentro, adesso finalmente ogni tanto ci sono buone notizie, e i pensionati possono, da quel punto di vista qui, possono stare tranquilli. Per far cassa cosa ha fatto la legge Fornero? Aveva bloccato l'aumento previsto dalla legge, cioè previsto da anni, quindi non era un regalo che era stato fatto dagli ultimi governi o da Babbo Natale. Quindi era una cosa ormai consolidata, anche perché la pensione deve necessariamente, per poter tenere dietro l'aumento del costo della vita, avere gli aumenti, giusto? E gli aumenti scattano all'inizio dell'anno. Tra l'altro la normativa è stata modificata, perché prima davano il 100%, poi dopo danno il meno. Cioè, comunque c'era una normativa prefissata. La legge Fornero cosa ha fatto? Ha trovato questa invenzione, dice, per far cassa, per portare a casa un po' di soldini, cosa facciamo? Noi blocchiamo l'aumento delle pensioni, per le pensioni al di sopra di tre volte il trattamento minimo, 1.407 euro l'ordi al mese, netti sono 1.200 euro, quindi non stiamo parlando delle pensioni d'oro. Quindi delle pensioni da 1.407 euro in su, blocchiamo per due anni l'aumento della pensione. Ma qual è l'effetto perverso di questa roba qui? Che fatto 1.400 euro e su 1.400 euro ci andavano su 20 o 30 euro, quindi sarebbero diventati 1.440, la perequazione dell'anno dopo avrebbe agito sui 1.440, la perequazione dell'anno dopo avrebbe agito sui 1.440 più la perequazione del 2013. Invece bloccando la perequazione nel 2014, quando è stata ripristinata, sono tornati in 1.407. Cioè, perché c'è stato un effetto immediato e uno ci ha rimesso perché non ha preso l'aumento. Ma poi c'è stato un effetto che si sarebbe trascinato nel tempo perché quello che uno aveva perso non l'avrebbe più recuperato. E questa era la riforma Fornero. Cosa ha fatto? Per far cassa, ovviamente ha dovuto ottenere bassa lasticella a 1.400 euro, così ha avuto un numero alto di pensionati e ha incassato svariati miliardi. C'è stato il Tribunale di Palermo, di non so dove, che ha fatto una remissione alla Corte Costituzionale chiedendo l'illegittimità di questo pezzo qui e la Corte Costituzionale con la sentenza numero 70 del 30 aprile del 2015, quindi di 4 giorni fa, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale perché la motivazione, la sentenza è molto articolata e ovviamente non posso parlare perché mi porterebbe via tre giorni. Però in buona sostanza dice che era irragionevole andare a penalizzare i pensionati su un meccanismo che gli permette di, non dico perché anche qui dire che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni tiene conto della svalutazione reale è una balla, però insomma era un meccanismo che comunque garantiva un adeguamento perché io amo dire una cosa, i pensionati a differenza dei lavoratori, assumendomi nelle responsabilità di quello che dico non contrattano perché il pensionato non va al rinnovo contrattuale come tutte le categorie dei lavoratori perché lo dico un po' così, perché anche i lavoratori non è che siano messi benissimo in questi momenti qui però storicamente ogni 4-3-4 anni quando scade il contratto si ricontratta e qualcosina si aumenta il pensionato non contratta, uno va in pensione con 1000 euro al mese, l'unico aumento che ha è la perequazione automatica quindi bloccare la perequazione automatica voleva dire veramente andare a impoverire gente che era in cano nera perché è vero che ci sono pensioni oltre 5-6 mila euro e se volete vi dico anche i numeri perché è una roba da ridere, le pensioni al di sopra dei 3 mila euro rappresentano l'1,3% del complessivo quindi sono tutte pensioni al di sotto dei 3 mila euro lordi, 3 mila euro lordi sono poco più di 2 mila euro quindi di cosa stiamo parlando e qui adesso il problema è che avendo dichiarato illegittima questa norma la norma decade e l'Inps deve restituire ai pensionati quello che ha tolto anche qui dopo vedo che ci sono già delle telefonate voglio chiarire una cosa perché qui c'è una campagna di stampa contro i pensionati che non mi piace perché sembra che adesso poiché lo Stato dovrà tirare fuori 5-6-10 miliardi tutti i giorni aumentano i miliardi che dovrà tirare fuori quasi andiamo a colpevolizzare la categoria dei pensionati ma attenzione, ai pensionati, non voglio usare una parola forte ma la uso per farmi capire i pensionati avevano rubato l'aumento delle pensioni e adesso glielo restituiscono se io domani mattina vado in banca e faccio una rapina e porto via 100 mila euro come esco alla polizia e mi becca e mi dice adesso li restituisci non posso dire bene guarda la polizia come cattiva perché mi devo dare indietro 100 mila euro adesso ho fatto un esempio un po' forte per farmi capire perché in realtà quando è stata fatta la legge Fornero eravamo in una situazione effettivamente in cui bisognava recuperare ma che si debba sempre andare a recuperare a svantaggio dei più poveretti insomma la cosa non mi sembra molto logica ok insomma abbiamo spiegato questa novità degli ultimi giorni poi magari ci torneremo anche nell'arco della puntata però ci sono le telefonate che premono sentiamo il primo telespettatore pronto buonasera pronto buonasera sono in trasmissione sì prego dica buonasera vorrei fare una domanda signor Zani sono qua dica mi ricollego al tema della trasmissione di qualche volta fa sul ricalcolo sul doppio ricalcolo della pensione la novità uscita nella legge di stabilità le chiedo sinteticamente io vado in pensione a settembre con 42 anni e mezzo dipendente di ente locale e dalla circolare IMSS che mi hanno fatto leggere ci dice che il legislatore ha superato il concetto di 40 anni come limite oltre il quale l'importo della pensione non aumentava prima dalla Fornero le chiedo sinteticamente come verranno valutati i miei 42 anni e mezzo allora sì dopo i 40 in pratica vorrei chiederle brutalmente ma quanto ci perdo più o meno la mia pensione è di circa valutata a circa 1500 euro netti ascolti allora velocissimamente perché l'argomento è abbastanza complicato ma penso di cavarmela in due battute allora cosa succedeva quando è entrata in vigore la riforma Fornero il massimo che uno poteva avere come rendimento era 40 anni di contributi e il 40 anni di contributi nell'Inps uso l'Inps perché è più semplice dava l'80% del salario medio calcolato sugli ultimi 10 anni brutalizzo per farmi capire quindi io prendevo il salario medio 40 anni facevo l'80% quella era la mia pensione lavoravo 43 anni era l'80% anche se avevo lavorato 43 anni e questa era la regola fino al dicembre del 2011 la legge Fornero mi spiace continuare a citarla Fornero ma è proprio lei la legge Fornero che ricordiamo l'hanno votata quasi tutti l'hanno votata quasi tutti sia a destra che a sinistra lei stessa dice no ma io non lo volevo il blocco delle cose eh cara anch'io vabbè quando uno va all'inferno dice ma dov'è che ti ho visto signore durante la vita e tutte le volte che ti ho chiesto un pezzo di pane non me l'hai dato ecco è facile pentirsi dopo vabbè chiudiamo la citazione evangelica la legge Fornero cosa ha fatto? ha detto ha introdotto il sistema contributivo dal 1 gennaio 2012 in avanti per cui uno con 40 anni di contributi aggiungeva all'80% si aveva già i 40 anni nel 2011 aggiungeva il pezzo contributivo per cui andava a prendere di più rispetto all'80% ora tranquillizzo l'ascoltatore non si applica a quello che io amo definire al pensionato quadratico medio cioè il pensionato italiano medio non gliene frega niente scusate il termine di questa roba qui perché comunque sono talmente basse le cifre che non avrebbe avuto vantaggio viceversa l'alta dirigenza quindi chi ha stipendi da 100, 150, 200 mila euro all'anno e più cosa succedeva? chi aveva sui 40 anni l'80% della media poi aveva il contributivo su uno stipendio di 200, 250, 300 mila euro e ficciole lì ne aveva veramente di vantaggio tant'è vero che c'erano dei casi in cui uno poteva arrivare a prendere anche il 120, il 130% rispetto all'ultimo stipendio però qui a onor del vero a onor del vero il testo originale della legge Fornero c'era una clausola che diceva che comunque non poteva prendere più di quello che avrebbe preso è sparito una manina una manina l'ha fatto sparire nessuno se ne è accorto io me ne ero accorto però a distanza di tre anni ci hanno messo rimedio però in questo mettere rimedio un vantaggio c'è che è quello che sottolineava l'ascoltatore che oggi la pensione non viene calcolata sul massimo di 40 anni ma nel suo caso sarà calcolata su 42 anni e 6 mesi di contributi quindi qualcosina ci guadagna non ci rimette e questa è un'altra buona notizia comunque la Fornero piangeva poi però ha fatto piangere gli altri lei e ribadisco i partiti di destra e di sinistra che hanno votato quella schifezza di riforma sentiamo il prossimo telespettatore pronto? sì, buonasera buonasera prego, dica sì, volevo sapere sì, dica, dica ok, allora per quanto riguarda proprio l'argomento che state parlando stasera dica nel 2012 mio marito era in vita e quindi percepiva una pensione sì fine 2012 è venuto a mancare nel 2013 io prendo la reversibilità volevo sapere se viene comunque revisionata anche la sua che adesso non c'è più dunque, io qui ovviamente parlo a titolo personale per quello che è di mia conoscenza perché ad oggi non è uscita nessuna disposizione secondo me lei dovrà prendere degli arretrati perché se in 2012 suo marito aveva una pensione superiore perché continuo a ripeterlo, è questo importante questa consulta agisce per le pensioni al di sopra di 1.407 euro lordi perché chi aveva una pensione al di sotto di 1.400 euro gli aumenti li ha presi tutti quindi se il suo marito aveva una pensione superiore di 1.407 euro lordi 1.200 euro netti secondo me su questo io ne sono abbastanza sicuro spetterà sicuramente l'arretrato per il 2012 l'unico problema è che nel suo caso probabilmente bisognerà fare una domanda perché l'Ips probabilmente in automatico non gliela darà però secondo me è così aspettiamo che... e invece per gli altri? cioè in questo... questo è un caso particolare ecco per gli altri ad oggi non si sa ancora niente perché qui la fantasia si sta sbizzarrendo qualcuno dice che verranno pagati in bot in CCT non lo so non lo so in Coca-Cola piuttosto che in Golia adesso non voglio fare pubblicità a nessuno adesso questo è per stemperare un po' il coso non si sa come verranno dati non si sa se verranno dati a tutti subito se verranno dati prima le pensioni più basse poi le pensioni più alte però spettano perché vi posso garantire che io me la sono letta la sentenza è una sentenza fatta veramente bene e che proprio specifica bene quali sono i limiti del legislatore addirittura così confrontandomi con qualche collega appassionato della materia dice che anche questo qui è un forte segnale nei confronti di Boeri che ogni tanto viene fuori il nuovo presidente dell'Inps che bisogna ricalcolare qui bisogna ricalcolare qui introduce ancora il concetto della ragionevolezza quindi non è che un improvvisamente si sveglia la mattina e adesso ricalcolo le pensioni e le diminuisco no stando questa sentenza non è possibile e non sarà possibile perché ricordo che la sentenza di corte costituzionale ha valore di legge ok ci fermiamo adesso per la pubblicità e poi rientro ancora con le vostre telefonate a fra poco qui bentornati spazio ancora le vostre telefonate sentiamo il prossimo telespettatore pronto buonasera pronto? pronto? buonasera buonasera sì buonasera vorrei parlare con il dottor Zani sono qua ecco qui prego sì buonasera senta io avrei una domanda da porle sono andata in pensione con il primo aprile di quest'anno col sistema opzione donna vorrei sapere quando prenderò la pensione non mi è ancora arrivata nessuna comunicazione vorrei sapere qualche notizia in merito ma guardi qui le do una risposta che è una non risposta perché dipende da sede a sede IMS direi che un mese è un tempo normalissimo nel senso non si preoccupi è ancora in linea signora? sì la sede competente qual è? io sono Milano è Milano Milano che sede? perché anche Milano ma dovrebbe dovrebbe essere Milano Ripamonti allora guardi qui adesso lo dico e qui lo nego quando lavoravo a Milano Ripamonti era la sede che aveva i ritardi più grossi però adesso non so onestamente se abbia recuperato però direi che un mese precisando che io ero della pubblica amministrazione va bene non dovrebbe cambiare nulla ho capito guardi penso che nel giro entro il mese di maggio dovrebbe arrivarle sicuramente ho capito perché appunto il mio ufficio personale mi ha detto che normalmente vengono pagate il 16 del mese sì quindi il 16 di aprile sicuramente no quindi può anche essere che il 16 di maggio lei se la ritrovi ho capito ok va bene purtroppo qui non esiste una regola che dice entro toggione dipende dalle sedi come funziona però stia tranquilla che se avevi 35 anni 57 anni sì sì anche di più ne ho fatti anche di più quasi 39 buona pensione la ringrazio grazie a Dottor Zani buonasera grazie a lei buonasera dobbiamo aggiungere qualcosa sul tema di oggi no direi sul tema di oggi c'è solo da aspettare e su questo qui mi impegno come faccio di solito che non appena ci fossero delle novità sarete i primi a saperle perché adesso l'Inps e il governo devono trovare il modo di cosa però voglio ripetere perché questo qui è una cosa che mi dà fastidio dal 30 di aprile ad oggi questa campagna di stampa che più o meno velatamente dipinge la categoria dei pensionati come quelli che stanno bene che mangiano a sbafo che sono ad osso ai giovani che non trovano il posto e questa qui non mi piace perché i pensionati fino a prova contraria hanno pagato fior di contributi lo ascoltatore di prima ha pagato 42 anni e 6 mesi di contributi e andrà in pensione come diceva lui con una pensione di 1500 euro quindi non mi sembra che stiano regalando soldi ai pensionati dopodiché se qualcuno dice c'è qualcuno che ha una pensione di e questo è vero questo qualcuno sì ma sono ripeto le pensioni al di sopra dei 3000 euro lordi rappresentano l'1,4 l'1,5% sul monte totale delle pensioni quindi non facciamo ridere insomma poi tra l'altro la guerra tra categorie tra virgolette deboli è una cosa che proprio non ha senso esatto sentiamo il prossimo di Telespettatore pronto buonasera pronto? pronto? buonasera 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 vorrei parlare con il signor Zani per favore sono qui dica dica prego dica non riesco a capire sono qui mi dica signora abbassi bene la televisione il volume e mi ascolti per telefono ma sta parlando con un'altra persona? no 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 sono io glielo garantire se mi vede per televisione sono io faccia pure la domanda che voleva fare a Paolo io volevo sapere perché dicono che voglio toccare le pensioni io ho una pensione di reversibilità sì arrivo a 1509 euro al mese tra la mia che ho lavorato 33 anni e più e mio marito che ha lavorato 36 anni mio marito prende da mio marito prendo 786 euro e della mia 722 euro volevo sapere se è vero che vogliono toccare queste pensioni guardi voglio dire ok grazie grazie mi ascolti che adesso le rispondo guardi io di cose voglio dire di cretinati in giro ne ho sentite tante per cui io adesso in assoluto non mi sento di escludere niente però insomma se toccano una pensione di 1509 euro complessiva secondo me c'è il rischio che scoppi la rivoluzione giusta ecco cioè voglio dire adesso non voglio no adesso non voglio fare dei paragoni stupidi però anche se mi verrebbero bene ma voglio stia tranquilla perché quando parla ecco purtroppo ecco quando dico bisogna toccare le pensioni dopo uno fa di tutto il termofascio ma se toccano una pensione di 1500 euro insomma li lascio immaginare prossimo telespettatore pronto buonasera 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 prego volevo parlare col dottor Zami è qui sono qua dica senta io fino al 2013 sono stato in mobilità dal 2013 ad oggi volevo sapere se mi spetta anche a me la differenza perché prendo 1700 euro di pensione ma lei è già in pensione? sì cosa prende? da novembre 2013 novembre 2013 cosa prende di pensione? 1774 allora se è in pensione dal 2013 no a lei non spetta niente e le spiego perché perché il blocco della perequazione automatica dell'aumento automatico valeva per il 2012 e il 2013 quindi valeva per le pensioni in essere al primo gennaio del 2013 ho capito o al primo gennaio del 2012 lei la perequazione automatica l'ha presa la prima che ha preso l'ha presa a gennaio del 2014 per cui lui era già fuori dal blocco se la cosa la può consolare è la situazione mia io proprio Paolo Zani sono nella sua anche io sono in pensione dal 2013 per cui quando mi infervoro sul blocco delle corti costituzionali nessuno mi dirà ma lo fai per interesse privato io non prendo un centesimo da questa sentenza per cui perché ripeto a beneficio che degli altri se uno è dato in pensione nel 2013 la prima per equazione automatica l'ha presa nel 2014 quando non c'era più il blocco piuttosto se lei ha avuto della mobilità faccia controllare al patronato dove sicuramente ha fatto la domanda di pensione che abbiano accreditato giusto i contributi figurativi perché potrebbe esserci qualche problema questa è una risposta una domanda una risposta non richiesta ma mi sento di dargliela perché so che a volte ci sono dei problemi un'aggiunta a margine mille grazie buonasera grazie a lei dovremmo avere un altro telespettatore in linea sentiamo pronto buonasera pronto buonasera buonasera sono Giuseppe chiamo dalla provincia di Bergamo buonasera dica allora diciamo che io giorni fa mi sono accorto che dal 2009 non non ho percepito l'assegno familiare di mia moglie però è un fatto che io ho un po' di immaginazione perché con l'occhio la mia azione ho un po' di immaginazione su quello vabbè però ho gli ultimi 7 no gli ultimi due anni io posso fare ancora qualcosa allora se lei non ha percepito gli assegni al nucleo familiare per il coniuge e ha ed entro nei limiti per gli assegni al nucleo familiare ci sono dei limiti reddituali ben precisi ci sono delle tabelle sono 160 170 tabelle quindi insomma bisogna andare a tirar fuori quella giusta comunque qualsiasi patronato è in grado di controllare lei può chiedere gli assegni familiari nell'ambito della prescrizione quinquennale quindi può chiederli indietro per 5 anni da adesso 2015 14 13 12 11 addirittura dal 2010 se volesse per cui se le spettano le danno 5 anni da retrati ok sentiamo il prossimo di Telespettatore pronto buonasera pronto pronto sento che c'è qualcuno pronto pronto sì pronto sono 10 di Varese buonasera sì salve io vorrei chiedere un solo un chiarimento sì allora io sono andato in pensione con i 40 anni di contributi nel 2011 poi ho fatto i famosi 18 mesi di finestra con la legge Berlusconi sì e sono andato a luglio 2013 volevo solo sapere se io sono dentro con come si chiama con la legge Fornero no lei vorrei chiedere se è dentro in questa sentenza che ha tolto il blocco delle pensioni probabilmente è così? forse l'abbiamo l'abbiamo perso allora anche per lei se la pensione ha decorrenza luglio 2013 lei la per equazione automatica l'ha presa perché il prima la prima per equazione che ha avuto ce l'ha avuta nel 2014 quindi l'ha avuta non è entrato nel blocco perché il blocco riguardava solo le pensioni che erano in essere o al primo gennaio 2012 o al primo gennaio 2013 ok direi che abbiamo abbiamo esaurito pensioni in essere quindi che uno li stava percependo quel che quel che ci ha chiesto vediamo se riusciamo a prenderne ancora una siamo quasi in chiusura pronto o buonasera pronto sono Simone buonasera dica eh vuoi sapere sì ecco ma non va a legge lì che che si è arrivato 13 settimane negli ultimi 4 anni ah sì dica anni ha diritto ha diritto la disoccupazione ha diritto la disoccupazione sì è la nuova naspi a condizione sì ho capito è la nuova naspi che è la nuova disoccupazione ha diritto a condizione che il licenziamento sia avvenuto dal primo maggio in avanti cioè se si è stato licenziato dal dal primo maggio cioè gli oggi ecco in realtà poi oggi perché sabato il 2 non è sì se è stato licenziato ad aprile o a coso rientra ancora nella vecchia normativa ok questa era l'ultima telefonata proprio il volo per stasera grazie a Paolo Zani per la consueta competenza e chiarezza ovviamente di questa vicenda qui ne parleremo ancora sicuramente perché questo è un tema molto caldo grazie anche a voi per averci seguito grazie alla regia restate su Tele Nuova buona serata grazie a tutti grazie a tutti